Questo accordo di programma che ha assolutamente una finalità, quella di cercare di liberare il più possibile della plastica la nostra regione attraverso una serie di azioni che vanno dal potenziamento delle raccolte differenziate e attività di riciclo, a quelle di sensibilizzazione dei cittadini nelle scuole, così nei confronti anche dei comuni che operano sul territorio con le raccolte differenziate, con i loro servizi, perché si raccolga più plastica e si elimini quello che è un fenomeno chiamato il marine litter, cioè la presenza di plastica nel mare, che è veramente pervasiva. Pensate che nel mare il 95% dei rifiuti che vengono raccolti è plastica, quindi abbiamo bisogno di affrontare con forti azioni questo problema per ridurre la presenza di questa importante frazione di rifiuto. Le azioni concrete per la riduzione della plastica sono essenzialmente la riduzione degli imballaggi, parte anche da un corretto stile di vita, quindi evitare imballaggi di plastica, basti pensare all'esempio delle sagre, quanto materiale usa e getta, forchette, plastica e patti di plastica vengono utilizzati, ricorrere a materiale compostabile da questo punto di vista aiuto, anche perché il dato è in crescita esponenziale e quindi dobbiamo necessariamente intervenire per un'azione di riduzione. Grazie.